... Incidenti stradali, una mattanza. Ieri sera Paola, una donna travolta e uccisa in una strada priva di illuminazione. 24 ore prima un clochard muore investito da un pirata della strada. I numeri sono ormai da bollettino di guerra. Una testa di capretto al vigile urbano. Il macabro avvertimento per un agente della polizia municipale di Vibo Valencia. Darne notizie il sindaco Elio Costa che esprime sconcerto e ribadisce la determinazione a proseguire sulla via della legalità. Taglio della prefettura e mobilitazione. Sabato, amministratori, sindacati e cittadini in marcia a Vibo per protestare contro la soppressione dell'ufficio territoriale del governo che priverebbe una realtà ad altissimo rischio di un presidio insostituibile. La domenica del pallone in serie B pari esterno del Crotone che si fa raggiungere in seconda posizione dal Bari in Nellega Procco senza sconfitta a Lecce. In serie D Regina Palmese finisce 4-3, sconfitta è la Vibonese ad Aversa e la Vigora a Cava dei Tirreni. Siderno-Locri, un derby speciale. In 5.000 assistono alla gara di promozione, finisce 0-0. Ma è una grande festa dello sport nel ricordo di Leo, Bombo, Peppe e Gigi, i quattro tifosi sidernesi che esattamente un anno fa persero la vita in un incidente stradale. Buon lunedì ai telespettatori della C, dunque questi principali fatti del giorno. In primo piano lo avete sentito dai titoli La Cronaca. Ieri sera a Paola una donna ha perso la vita in un tragico incidente travolta da un'auto in un'arteria priva di illuminazione. 24 ore prima a Villa San Giovanni un pirata della strada ha invece ucciso un clochardo. Tutti i particolari in questo servizio. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nella serata di ieri una sessantenne è stata travolta e uccisa da un'auto in transito all'incrocio tra la statale 18 e la statale 107 a Paola. Il conducente dell'autovettura si è fermato per prestare soccorso e dare l'allarme ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto si sono subito precipitate le pattuglie della polizia stradale per i rilevi del caso mentre l'arteria scarsamente illuminata e sarebbe questa la principale causa del sinistro. è stata per diverse ore interrotta al transito. Circa 24 ore prima a Villa San Giovanni un clochard 78enne di origini siciliane aveva perso la vita investito da un'automobile. Gli inquirenti ritengono si tratti di un sub che invece si è dileguata senza prestare soccorso alla vittima. Il fatto si è verificato lungo l'arteria comunale Matteo Messina strada di collegamento con Campo Calabro. L'anziano era ospite di un centro di accoglienza ed è stato travolto mentre passeggiava con un amico rimasto illeso nei pressi di uno stabilimento di legname. Quanto le strade calabressi siano mortalmente insicure noi l'abbiamo raccontato in un servizio realizzato da Anna Prete sulla scorta dei dati Istat. Pensate, solo nel 2014 in Calabria ben 101 i morti. In Calabria i dati del rapporto Istat sugli incidenti stradali fanno emergere una situazione drammatica. Nella nostra regione nel 2014 si sono verificati 2.659 incidenti stradali che hanno causato la morte di 101 persone e il ferimento di altre 4.428. Rispetto all'anno precedente si registra una flessione del numero dell'incidente e dei feriti maggiori di quella rilevata nell'intero paese. Il numero delle vittime della strada invece aumenta del 3,1% a fronte di un calo in Italia dello 0,6%. In Calabria l'indice di lesività, vale a dire il rapporto tra il numero dei feriti e il numero degli incidenti, è diminuito mentre quello di mortalità è aumentato tra il 2013 e il 2014 e in particolare cresce in provincia di Crotone e di Vibo Valencia mentre rimane stabile in provincia di Reggio Calabria. La maggiore concentrazione degli incidenti si è avuta nel periodo compreso fra giugno e ottobre in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza. In questo periodo si contano 1.185 incidenti in cui hanno subito lesioni 2.022 persone e 42 sono decedute. Un ulteriore picco si registra nel mese di dicembre con 248 incidenti, pare al 9,3% degli incidenti rilevati nel 2014. Inoltre, sempre secondo i dati Istat, la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli. La tipologia più diffusa è lo scontro frontale-laterale seguito dal tamponamento. E tra le prime cause di incidenti ci sono la velocità troppo elevata, la guida distratta e il mancato rispetto delle regole della precedenza. Restiamo alla cronaca. Una macabra intimidazione è stata compiuta ai danni di un agente della Polizia Municipale di Vibo Valencia. Darne notizia questa mattina il sindaco Elio Costa durante un incontro con i giornalisti. La testa mozzata di un capretto appesa in un sacchetto di plastica davanti alla porta di casa. Destinatario Francesco Russo, 54 anni, agente della Polizia Municipale di Vibo Valencia, residente a Vena di Ionadi. Un'intimidazione inquietante della quale ha dato notizia stamani il sindaco Elio Costa durante l'incontro con la stampa convocato per annunciare la manifestazione in difesa della Prefettura che avrà luogo sabato prossimo. A fare la macabra scoperta stamattina è stato lo stesso agente, uscito di casa per recarsi al lavoro. Ha quindi avvisato il comandante della Polizia Municipale, Filippo Nesci, quindi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Vibo Valencia, che agli ordini del capitano Diego Berlingeri hanno avviato le indagini. Ferma la reazione del primo cittadino. Questa è un'ulteriore manifestazione della delinquenza criminosa che esiste sul nostro territorio. E non pensi questo signore o questa organizzazione di poter condizionare i vigili urbani o di poter condizionare il sindaco o comunque tutta la giunta, i consiglieri comunali del comune di Vibo Valencia. Perché qui non c'è posto per l'andrangheta. Non la farà entrare né il sindaco né l'amministrazione comunale, ma non la faranno entrare nessuno dei consiglieri e dalla maggioranza e della minoranza. E sarebbero prossime ad una svolta le indagini della procura di Castrovillari sull'omicidio di San Cosmo Albanese. Nella Silla Greca vittima un muratore di 52 anni assassinato con diversi colpi di revolvere al Torace. Interrogati per ore alcuni dei suoi congiunti. Il servizio. Incensurato ed estraneo alla criminalità organizzata. Un delitto, quello maturato a San Cosmo Albanese, il cui movente ritengono gli inquirenti va ricercato nella sfera privata della vittima, Carmine Avato. I carabinieri della compagnia di Corigliano con il coordinamento della procura di Castrovillari guidata da Eugenio Facciolla hanno a lungo interrogato moglie, figlia maggiore, suocere e cognati del muratore 52enne assassinato nel piccolo centro della Silla Greca. E' stato trucidato nella notte tra sabato e domenica davanti casa con diversi colpi di revolvere esplosi al Torace. A dare l'allarme erano stati vicini, inutili soccorsi. Dopo l'omicidio, il sindaco Cosmo Azzinari ha annullato la manifestazione religiosa secondo il rito ortodosso dedicata ai senti medici Cosmo e Damiano che doveva svolgersi ieri, proprio nel quartiere in cui si è verificato l'omicidio. E adesso gli altri fatti di cronaca della giornata. I finanziari di Reggio Calabria hanno sequestrato beni del valore di quasi 2 milioni di euro. L'operazione è nata dalla denuncia di un farmacista in seguito rivelatasi infondata. Durante una perquisizione sono emerse diverse operazioni non registrate tra cui la vendita dell'attività commerciale che avrebbe generato una plusvalenza non dichiarata al fisco utilizzata per l'acquisto di un diamante da 5,1 carati del valore di 100 mila euro. Il diamante era stato acquistato con la compiacenza di un intermediario finanziario che non avrebbe rispettato la normativa antiriciclaggio. Da qui il provvedimento di sequestro. La Direzione Investigativa Antimafia di Bologna posti sigili a beni immobili e immobili per un valore complessivo di circa 600 mila euro nei confronti di Saverio Giampà 51 anni originario di Catanzaro. Il decreto di sequestro e confisca emesso al Tribunale di Catanzaro su proposta il direttore della DIA riguarda oltre a diversi rapporti finanziari due immobili, tre società e quattro automezzi. Giampà è stato nel tempo coinvolto in numerosi procedimenti penali con precedenti soprattutto per droga. Due persone denunciate per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro quattro per guida senza patente due per furto di energia elettrica e due per abusivismo edilizio. Questo il bilancio dell'attività svolta nello scorso fine settimana dai carabinieri della Locride attraverso le compagnie di Locri, Bianco e Roccella Ionica con il supporto dei colleghi dello squadrone riportato Cacciatori. L'operazione si inquadra nell'ambito del piano di contrasto alla criminalità denominato Focus Ndrangheta. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato un giovane di 24 anni residente nella città dello Stretto sorpreso in flagranza mentre cedeva due involucri di marijuana ad un'altra persona. La successiva perquisizione personale veicolare e domiciliare ha permesso agli inquirenti di rinvenire un altro involucro della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 6 grammi. Questa mattina a Vibo Valencia si è tenuta la conferenza stampa durante la quale è stata annunciata la manifestazione che avrà luogo sabato prossimo a Vibo per protestare contro l'annunciata soppressione della prefettura. Il sindaco chiama a raccolta la sua città per dire no alla chiusura della prefettura di Vibo Valencia. Sabato mattina è prevista una grande mobilitazione alla quale parteciperanno i sindaci del Vibonese, le organizzazioni sindacali, politiche e le associazioni del territorio. Alla protesta pacifica anche SIULP, Selle e Fratelli d'Italia tutti uniti per impedire che venga soppresso l'ufficio territoriale del governo. E stamattina nella sala giunta di Palazzo Lugirazza il primo cittadino ha convocato la stampa per dare ampio risalto all'iniziativa di sabato e a rinnovare l'appello alla partecipazione. Il nostro atto di protesta tra origine non soltanto dalla rabbia della penalizzazione del territorio ma soprattutto dalla consapevolezza che vogliono a tutti i costi aumentare quelle che sono le difficoltà del vivere civile le difficoltà soprattutto dei nostri cittadini. Per questo ci ribelleremo ci ribelleremo con tutte le nostre forze. L'obiettivo è dunque quello di convincere Roma a ritirare il decreto sulla soppressione della prefettura di Vibo Valencia. Il vero senso di una partecipazione collettiva è appunto quello di voler invitare la presidenza del Consiglio dei Ministri e soprattutto il Presidente della Repubblica che in genere è molto sensibile alle vere esigenze del territorio a che prendono in considerazione quali sono qual è il raccordo tra i criteri fissati dalla legge Madia e i principi ai quali si ispira l'abolizione della prefettura se tende soltanto a conseguire un risparmio economico. E adesso la pagina della sanità un ospedale da 651 posti letto è simbolo di efficienza questo sarà il nuovo ospedale dell'annunziata di Cosenza sul cui futuro però le istituzioni viaggiano a due velocità ci spiega tutto in questo servizio Tiziana Bagnato 651 posti letto di cui 546 in regime ordinario articolati in tre plessi sono questi i numeri del nuovo annunziata la struttura ospedaliera che dovrebbe prendere il posto di quella già esistente nella città Abruzia ma a quanto sembra la politica starebbe lavorando a due velocità da un lato la regione con un Mario Oliverio già pronto nella prossima settimana di incontrare il ministero dall'altro il consiglio comunale che stenta a presentare le ipotesi di siti su cui costruire il nuovo presidio per poter così consentire di avviare gli studi di fattibilità i tempi sono stretti in calzo Oliverio nella relazione a firma del commissario Achille Gentile vengono intanto proposte quattro ipotesi le prime due insistono nella zona di Vaiolise qui potrebbe nascere la nuova realtà dove attualmente si trovano alcuni impianti sportivi delocalizzandoli dietro il centro direzionale Carime oppure la nuova annunziata potrebbe sorgere spostando l'attuale sede degli uffici della motorizzazione civile del deposito dell'Amaco la terza ipotesi riguarda l'ex IPAI dove ora è ubicato il laboratorio di analisi e dove si trova un'area che potrebbe essere utilizzata per una nuova costruzione sul sito e il trasferimento dei reparti dei plessi da ristrutturare idea già bocciata da Oliverio e Occhiuto infine il sindaco di Cosenza pensa alla collina alle spalle dell'attuale sito e di fianco alla Mariano Santo una cosa è certa i tempi stringono e Oliverio da Occhiuto si aspetta un'accelerata e adesso passiamo alla politica non si placano le polemiche dopo la nomina di Ennio Morrone alla presidenza della commissione di vigilanza sempre nel mirino il coordinatore di Forza Italia in provincia di Catanzaro Mimmo Tallini messo nuovamente sotto accusa da tre suoi colleghi in consiglio regionale vogliono la testa del consigliere regionale Mimmo Tallini forzisti Nazareno Salerno Giuseppe Graziano ed Ennio Morrone e non ci sanno ad aspettare oltre le dichiarazioni del coordinatore provinciale di Catanzaro sulla nomina presidente della commissione di vigilanza di Morrone e le presunte illazioni di Inciuci con Oliverio sono parole pesanti come macigni e che andrebbero secondo gli azzurri ad incassonarsi in un quadro già compromesso i tre non esitano infatti a definire Tallini un battitore libero fuori da qualsiasi schema che spesso incappe in errori facilmente evitabili con un po' di buon senso politico questa volta è andato oltre ogni limite chiosano e dunque riteniamo che non ci sia altra via d'uscita se non quella dell'espulsione dal partito e i tre bacchettano anche Caridi e Santelli il primo diventato vice coordinatore regionale non appena arrivato da un altro partito solletti i camalumori interni a fi e gli viene recriminato di prendere posizioni senza dare uno sguardo alla situazione trovata alla coordinatrice invece Salerno Graziano e Morrone rimproverano di non avere polso e di intervenire sulle situazioni solo quando diventate incandescenti ed indomabili rimaniamo in attesa concludono i tre azzurri della riunione che si terrà a Roma e durante la quale auspichiamo che siano adottati provvedimenti tesi a rendere Forza Italia un partito più compatto andiamo adesso a Rende dove è stato inaugurato un grande centro polifunzionale una struttura unica in Calabria e nel mezzogiorno a misura di non vedenti e ipovedenti sorge in via Braille e ciò già dice molto è il grande centro polifunzionale che l'Unione Italiana dei Cech e dei ipovedenti ha inaugurato a Rende qualcosa di unico in Calabria e forse nel mezzogiorno d'Italia noi vogliamo fare di questo centro un punto di eccellenza nazionale credo che sarà importante per tutti i Cech e gli ipovedenti di questi territori ma non solo ed è un'ulteriore dimostrazione di come l'Unione Italiana Cech e Ipovedenti è al servizio del cittadino la struttura inaugurata attende d'altronde di essere completata questo è il primo blocco che noi stiamo realizzando alle nostre spalle ci sarà tutta un'altra parte con le piscine oppure con le sale ricreative c'è la casa di riposo del dopo di noi che cercheremo di realizzare nei prossimi anni però ci vuole uno sforzo enorme per poterlo realizzare un plauso convinto a Luigi anche da parte delle istituzioni locali c'è un'azione sinergica devo dire ma anche di stimolo dell'Associazione Nazionale Cech in questo caso dell'Associazione Provinciale che ha dato poi luogo a questa struttura che è veramente innovativa quindi sarà di grande aiuto ai temi dell'accessibilità in un ambito non solo comunale ma anche provinciale quando le istituzioni e anche le associazioni si mettono in contatto in sinergia si riesce anche ad arrivare ad obiettivi importanti e passiamo all'ampia pagina dello sport partiamo dal calcio dalla serie B in particolare il Crotone pareggia a Lanciano facendosi raggiungere nelle filane dopo quasi un'ora giocata in vantaggio mister Iuric d'altro canto non fa drammi che peccato poteva essere un altro trionfo ed ecco la beffa nel finale così da Lanciano il Crotone torna a casa con un solo punto passata in vantaggio al diciannovesimo del primo tempo con Ricci sfiori raddoppio all'inizio ripresa e poi a quattro minuti dal termine si fa raggiungere grazie ad un gol di piccolo che scarica un sinistro da Brivili alle spalle di Kordaz sugli sviluppi di un angolo non fa drammi però mister Iuric abbiamo fatto una buonissima gara perché io ritenevo questa partita molto difficile perché ho visto giocare Lanciano a grandi livelli sia a Perugia sia a Cesena sia in casa contro Salernitana che li sta girando male penso che abbiamo fatto 30 minuti ottimi poi 15 minuti da dimenticare dove hanno fatto molto meglio di noi il secondo tempo mi sembrava veramente partita stradominata sotto controllo ci ha malcato come Ascoli di chiudere la partita là siamo stati alla fine abbiamo portato 1-0 oggi siamo stati puniti mentre la capolista Cagliari è lunga battendo lo Spezzi in trasferta i Pitagorici si fanno raggiungere invece dal Bari Corsaro a Cesena ma noi stiamo molto sereni perché anche oggi si è visto che la serie B la linea è molto sottile bisogna restare molto umili lavorare sempre forte cercare di fare punti perché togliendo quelle 5-6 che veramente sono nettamente più forti delle altre tutto il resto incluso Lanciano secondo me siamo a pari livello ed ecco il quadro completo dei risultati della giornata di serie B eccola la grafica può eccola Livorno Vicenza 2-2 Modena Provercelli finisce 1-0 Spezia Cagliari 0-3 Ascoli Perugia 1-0 Avellino Latina 3-1 Brescia Trapani 3-0 Como Pescara 0-2 Lanciano Crotone finisce 1-1 Salernitana Novara 1-0 Ternana Entella 1-2 Cesena Bari finisce con il risultato di 0-2 Questa invece è la classifica Cagliari con 29 punti Crotone Bari 25 Cesena 23 punti Livorno Pescara 21 punti Brescia 20 Novara 19 punti Vicenza 18 punti Entella Spezia 17 punti Avellino 16 Latina Trapani 16 punti Perugia Modena 15 punti Salernitana Provercelli 14 punti Ternana Ascoli 13 punti Lanciano 10 punti Chiude la classifica il Como con 8 punti E adesso la Lega Pro Mentre il Catanzaro vince nell'anticipo e risale la China il Cosenza ieri protagonista a Lecce incassa una sconfitta vediamo come è andata la gara dei lupi grazie a questo servizio Si interrompe al via del mare di Lecce la striscia dei risultati utili di fila inanellati dal Cosenza i pugliesi bloccano a 6 le gare positive dei Silani colpite e affondati nel corso della ripressa da un Lecce non proprio irresistibile ma cinico e spietato bene benissimo i lupi nel primo tempo Cria Costatella e Raimondi sono imprendibili le occasioni salvo un palo centrato in pieno da Moschardelli dall'altra parte del campo fioccano la pecca rosso-blu è quella di non concretizzare per troppa foga sottoporta opera la bravura del portiere Salentino Perrucchini pronto a dire no ad Arrighini in almeno due circostanze clamorosa l'occasione non sfruttata dall'attaccante Pisano al minuto 43 più bravo e preciso Surraco ad inizio ripressa il suo tiro a giro che spezza l'equilibrio vale da solo il prezzo del biglietto un euro-goll che taglia il fiato alla verba offensiva calabrese i rosso-blu in pratica non riescono quasi mai a rendersi pericolosi nel secondo tempo nonostante i cambi di Rosselli che butta nella mischia prima la mantia e poi Vutov vince il Lecce ed in classifica è sorpasso ed ecco il quadro completo dei risultati della giornata di Lega Pro può partire la grafica Lupa Castelli Romani Catanzaro finisce 0-1 Andrea Melfi 0-0 Foggia Monopoli 0-2 Paganese Ischia 2-2 Acragas Casertana 0-4 il risultato finale ancora Martina Franca Matera 0-1 Messina Catania finisce 0-0 Lecce Cosenza 1-0 Benevento Juve Stabia si giocherà in posticipo questa è la classifica Casertana 24 punti Messina 20 Foggia Lecce 18 punti Cosenza Benevento 17 punti Acragas 15 punti Andrea Paganese Monopoli 14 punti Juve Stabia Ischia 12 punti Catanzaro Matera Fermi 11 punti Melfi 9 punti Catania 8 Lupa Castelli Romani 6 punti Chiude la classifica Martina Franca con 5 punteggi In campo ieri anche le formazioni calabresi di serie D prima di entrare nel dettaglio delle gare ecco risultati e classifiche del girone I ecco i risultati può partire la grafica Versa Normanna Vibonese 1-0 Cavese Vigor Lamezia 3-0 Due Torri Frattese 1-0 Gelbison Gragnano 1-1 Leon Fortese Rende finisce a reti inviolate Noto Scordia 3-0 Sernese Siracusa 1-0 Reggio Calabria Palmese 4-3 Roccella Marsala 0-2 Per questa classifica Cavese 26 punti Frattese 25 Siracusa 24 Sarnese 22 Due Torri 22 punti Vibonese 21 Reggio Calabria 20 punti Versa Normanna Gragnano Leon Fortese 19 punti Marsala 18 insieme alla Palmese 18 punti Agropoli Rende 16 punti insieme al Noto Roccella 15 punti Scordia 11 Gelbison 10 punti Chiude la classifica La Vigor La Mezzia con 4 punti E come abbiamo visto dai risultati la gara più attesa il derby tra Regione e Palmese è stata pirotecnica il 4 a 3 per i ragazzi di Cozza raccontato in questo servizio non è stata una partita per deboli di cuore neanche una da far vedere ad aspiranti difensori pacchetti arretrati che fanno acqua da tutte le parti ma lo spettacolo quello di sicuro non è mancato bene per i tifosi bene per la regina super nel derby tutto in riva allo stretto contro la Palmese due sorpassi due agganci e due controsorpassi per un totale di 7 gol Reggio e Palmi se le danno di santa ragione alla fine chi sorride è Cozza 10 punti raccolti dal gruppo Amaranto in 15 giorni 3 in tribunale e 7 in campo il derby contro i Cugini Neroverdi era il crocevia della stagione tra le Calabresi adesso solo la Vibonese resta davanti ma cosa più importante il distacco dalla vetta si è ridotto ad appena 6 lunghezze decisivo il timbro di Zampaglione a partita praticamente finita un gol che lascia amarissima la bocca palmese capace di portarsi avanti di due reti nel primo tempo con Fabio e Piemontese ma allo stesso tempo incapace di mantenere il distacco poi ripianato addirittura sorpassato dai Cugini Amaranto grazie alla doppietta di De Bode e la rete di Rosselli la grinta di Capitan Cordiano a rimettere tutto a posto nonostante l'inferuità numerica ma poi arriva la doccia fredda firmata a Zampaglione e tutto si sgretola e crisi in casa nero verde la seconda debacle di fila e a secco di vittoria da cinque turni sorride invece la regina sorride Cozza sfortunata invece la Vibonese che nel finale si fa superare dalla Versa Normanna torna alla vittoria la Versa Normanna e lo fa contro una delle migliori squadre vista al Bisceglia quella Vibonese che continua a balbettare lontano da casa sono adesso sei le giornate a bocca asciutta per il rosso e blu fuori da Luigi Razza in campo la formazione di Di Maria battaglia sfiora il colpaccio alla mezz'ora con la traversa colpita in pieno da Saraniti rischia nel finale del primo tempo sulla spizzata di Diallo crolla a dieci minuti dal gong quando Maggio beffa a Parisi con un tapin ravvicinato precedentemente il portiere rosso-blu si era superato sbarrando la strada a Dursi mentre ad inizio ripresa era stata la Vibonese ad andarci vicino con scapellato dopo il timbro di Maggio la Versa ha pure l'occasione del raddoppio ma Diallo la divora in fondo sarebbe stato troppo per questa Vibonese più che permissiva in difesa e poco concreta in avanti e non c'è gloria neppure per la Vigor la Mezzia che nella tana della Cavese tornata capolista rimedia un'altra sconfitta persa la leadership del campionato contro la Vigor la Mezzia l'obiettivo della Cavese era la vittoria e in attesa di risultati favorevoli da campi di Sarno e Piraino riconquistare la testa della classifica obiettivo centrato con facilità dagli Aquilotti che ora sono ovviamente primi anche grazie alle sconfitte di Siracusa e Frattese con le immagini montate da Alfonso Ceruso passiamo alla cronaca della gara dopo 120 secondi di gioco e Danna che servito da De Rosa prova a sorprendere il portiere ospite con un diagonale che si perde sull'esterno della rete timida la reazione della Mezzia che al settimo sfrutta male un contropiede di Fioretti la cui conclusione risulta di facile presa per Conti al quattordicesimo De Rosa crossa per Danna che spedisce fuori la sfera il gol è nell'aria arriva al diciassettesimo De Rosa batte un corner per la testa di Danna che questa volta accentra il bersaglio grosso e fa 1 a 0 il raddoppio arriva al ventesimo ancora su calcio da fermo Di Deo batte una punizione dalla propria tre quarti con un lungo lancio per Varriale che aggancia la sfera una volta al limite batte Fazzino fuori da Pali con un preciso pallonetto 2 a 0 è partita chiusa per gli Aquilotti nel secondo tempo la cavese parte bene sfiorando subito la terza rete al quarantanoesimo su invito di De Rosa Donna Rumma se ne va sulla sinistra e crossa al centro per Danna che di testa mette di poco a lato terza rete che arriva al cinquantaquattresimo ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Varriale il Lamezia risponde al cinquantasesimo approfittando ancora una volta di un errore in difesa di Maraucci Fiorelli costringe Conti in angolo gli ospiti ci credono e al sessantacinquesimo non concretizzano per poco la palla goal più limpida dell'intero match Lettieri ruba palla di Deo in area quilotta e da distanza ravvicinata trova i guanti del sempre attento Conti la terza rete per i metelliani arriva a dieci minuti dal termine con Giannattasio che recupera palla al limite con un bolide da fuori aria in sacca e adesso scendiamo nel campionato di promozione ieri si è giocato il derby tra Siderno e Locri finisce 0 a 0 ma è stata soprattutto la giornata del ricordo dei quattro tifosi deceduti esattamente un anno fa in un tragico incidente sullo Ionio Tirreno vediamo il servizio finisce 0 a 0 la partita più attesa il derby più sentito nel ricordo di Leo, Bombo Panino e Luigino i quattro ragazzi tifosi del Siderno morti esattamente un anno fa in un frontale sulla Ionio Tirreno i loro nomi scritti sui palloncini dal cattinaria dei sindaci di Locri e Siderno Giovanni Calabrese e Pietro Fuda sono stati scanditi accompagnati da un lunghissimo e con vosso applauso dei 5.000 derraciti spettatori di un derby che non passerà certo alla storia come uno dei più spettacolari loro si hanno vinto le due tifoserie hanno colorato la classicissima con coreografie canti e sfottotipici di un derby come Siderno-Locri in campo le due formazioni hanno offerto poco tra i biancazzurri e a Maranto a prevalere è stata la paura di perdere alla fine ne è uscito fuori un pareggio a reti inviolate senza sussulti che consente ad entrambe le formazioni di muovere la classifica del girone B di promozione nel complesso meglio l'11 di Pippo la face padrone del campo anche dopo l'espulsione di Ciccio Marino per un fallo di reazione a centrocampo su sec poco impegnati i due portieri di Macri l'intervento più difficile della partita su un tiro dei 30 metri di Foti tra due giorni si torna in campo per i recuperi della non aggiornata i Sidernesi ospiteranno il Villa San Giuseppe mentre il Locri sarà di scena a Guardavalle è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione prossimo appuntamento con il Lettg alle 16 e 30 e adesso in chiusura come sempre un breve riepilogo dei principali servizi del nostro telegiornale più tardi ancora sangue sulle strade calabresi nella serata di ieri una sessantenne è stata travolta e uccisa da un'auto in transito all'incrocio tra la statale 18 e la statale 107 a Paola il conducente dell'autovettura si è fredda la testa mozzata di un capretto appesa in un sacchetto di plastica davanti alla porta di casa destinatario Francesco Russo 54 anni agente della polizia municipale di Vibo Valencia residente a Vena di Ionadi un'intimidazione inquietante 651 posti letto di cui 546 in Regione Ordinario articolati in tre plessi sono questi i numeri del nuovo annunziata la struttura ospedaliera che dovrebbe prendere il posto di quella già esistente nella città Bruxia che peccato poteva essere un altro trionfo ed ecco la beffa nel finale così da Lanciano il crotone torna a casa con un solo punto passato in vantaggio al diciannovesimo del primo tempo con Ricci sfiori raddoppio ed inizio ripresa e poi a 4 minuti finisce 0-0 la partita più attesa il derby più sentito nel ricordo di Leo Bobbo Panino e Duigino i quattro ragazzi tifosi del Siderno morti esattamente un anno fa in un frontale sulla Ioni Terreno i loro nomi scritti sui palloncini dal cerdinario dei sindaci di Locri e Siderno Giovanni Calabrese Pietro Furi visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C News 24 va in onda alle 16 e 30 i calabresi sono informati a tutti